Puntuale, puntualissimo! Alle 8 della mattinata di mercoledì 24 novembre, l'albero di Natale svettava già su piazza Vittoria Emanuele, il cuore della città. Arrivato, come ormai da tradizione, dai boschi di Asiago, parte quindi la corsa che porterà tra un mese e un giorno a Natale 2021, grazie a Confesercenti Rovigo e al Comune. In città si sta infatti cercando di organizzare il Natale e le feste al meglio, ovviamente con la consapevolezza che sarà necessario tenere conto dell'andamento del contagio, Di certo, oltre all'albero, ci saranno le casette del mercatino di Natale, oltre alle luminarie pagate dal Comune. Ci sarà, salvo che la situazione epidemiologica non lo impedisca, il concerto di Capodanno, con Palazzo Nodari, che ha assicurato che anche le frazioni saranno comprese nel programma di eventi.